Il ROV o Remotely Operated Vehicle è un veicolo sottomarino filo guidato, operato da remoto, con un cavo di lunghezza variabile da centinaia a migliaia di metri che lo collega a una postazione di comando. I primi ROV sono stati progettati prevalentemente per l'esecuzione di lavori sottomarini in ambito industriale e per il recupero di oggetti in acque profonde. Con il passare degli anni è diventata sempre più evidente la potenzialità dell'applicazione di questa tecnologia anche in campo ambientale, per studiare gli habitat e gli organismi marini nel loro ambiente naturale. Per questo dal 2006 l'ISPRA ha iniziato a utilizzare il ROV nelle attività di ricerca marina sulla nave oceanografica Astrea.